Continua adesso, se possiamo andare al messaggio che il Signore ti ha dato, credo ieri sera e stamattina. Un messaggio che ci spiega perché dobbiamo attraversare tanti problemi e difficoltà e tribolazioni e dolori. E spesso i fratelli ci scrivono, sto passando un momento così difficile nella mia vita, e lo so che Gesù è presente, lo so che Lui vede tutto, però oh quanto fa male, quanto dolore, e quando finirà questa sofferenza? Quindi il Signore ti ha dato un bel messaggio su questo, intitolato Se il diavolo è vinto, perché dobbiamo passare attraverso tribolazioni? E il diavolo è vinto! È vinto! L'abbiamo capito che è vinto! E perché io devo soffrire allora? Perché non cammino sempre nella vittoria? Ottimo, vai, vandi Angelina! No, no, no! Io ho punte di domande, tu devi mettere le risposte. Io posso solo chiedere al Signore che ci guida qua. Amen! E i fratelli ci mandano delle bellissime testimonianze di vittorie conseguite, guarigioni raggiunte, matrimoni salvati, mariti o mogli che cominciano veramente a amare lo sposo e la sposa, e il paradiso entra a casa loro, quando cominciano, quando cominciamo a imparare, a capire che dobbiamo dare per ricevere, se non dai non ricevi, se non semini bene, non mieti bene, dov'è il contadino che seminando immondizia pretende di raccogliere arance, mele, solo un pazzo può seminare seme e che sia seme buono, non quello del multinazionale che non si riproduce. Gloria a Dio! Amen! Gloria a Dio! E allora, infatti, pregavo, Signore, cos'è che, ascoltando e leggendo quello che i fratelli ci mandano, perché, Signore, cos'è che hanno bisogno, fratelli? Dammi un messaggio che li possa aiutare e ispirare. E, Signore, mi ha dato questo messaggio, se il diavolo è vinto, perché dobbiamo passare attraverso tribolazione? E io ci ho preso degli appunti che adesso vi do. E ti ho dato della scrittura, Angelina. Sì. Ecco, mi aiuti. Sì, grazie. Con la tua dolce voce. Dio mi aiuti, sì. Allora, cos'è che insegna la Bibbia? Cominciamo con l'insegnamento biblico. La Bibbia insegna che le persone, tante cose insegna, ma una delle cose che insegna è che le persone che Dio ha usato maggiormente sono prima dovute passare per esperienze di difficoltà e tribolazioni nella vita. Più Dio ha usato una persona, più ha passato tribolazioni. E loro non pretendiamo che dobbiamo essere senza tribolazioni. Questo è un messaggio che voglio dare a tutti quei fratelli e sorelle che stanno attraversando difficoltà e forse si sentono che stia avvenendo loro qualcosa di strano. Tranquilli, fratelli. È cosa normale a cui dobbiamo abituarci. Angelina, mi dà la prima scrittura? Sì. Primo Pietro 4, 12 a 14. Carissimi! Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio riposa su di voi. Primo Pietro 4, 12 a 14. Gloria a Dio. E allora, fratelli, non ascoltate quei religiosi che la parola non conoscono e che dicono che per la grazia di Dio dobbiamo sempre essere felici. Questo non è possibile, perché in questo mondo dove il maligno impera non si può essere sempre felici. Per questo dovremmo aspettare il regno di Dio. E anche lì, ubbidendo, seguendo l'ubbidienza. Infatti ha scritto così, Filippesi, Angelina, 1, 29. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Filippesi 1, 29. Quindi non solo credere, ma anche soffrire per Lui. Cerchiamo di capire, Paolo sta dicendo che soffrire per Cristo fa parte della sua grazia. Ah, quella è grazia. Capito? Eh sì, rileggi di nuovo. Vi è stata concessa la grazia di soffrire per Lui. Sì. Filippesi 1, 29. Questo qui, sai, perché oggi il diavolo ha intrufolato le false dottrine della supergrazia, che è tutto sotto grazia. No! È tutto sotto la parola del Vangelo. E allora la grazia viene quando ubbidiamo e Dio ci benedice. E allora la grazia non significa sempre di godere il benessere, ma significa anche a volte di soffrire per Gesù, come Gesù sofferto in croce, come ogni martire ha sofferto, con gli uomini di Dio ha sofferto, come ogni mamma e papà ha sofferto per aiutare il bambino che si sbagliava di notte quando era malato, quando aveva la febbre. I genitori soffrono. Io ho avuto sei figli, mia moglie ha avuto sei figli, io l'ho assistita, e quindi qualche pochino abbiamo imparato. Non è sempre, oh, che belli i bambini. No, no, belli sì, ma a volte c'è da lottare contro il diavolo, perché non li uccida, non li ammali. Amano. E a volte gli insegna, e loro non vogliono imparare, allora per amore e avere pazienza, e tornare a insegnare loro. D'una parte ci sono i genitori che li amano, e dall'altra parte c'è il mondo che li vuole riempire di perversione, di droghe, di vizi, possono fare quello che vogliono, cioè praticamente è come Penalope che di notte cuciva e di giorno scuciva. Quindi a casa insegniamo ai bambini i valori e nel mondo glieli tolgono. Ci sono questi cantanti del diavolo che cantano ribellione, ribellati dai genitori, questi sono figli del diavolo. L'inferno li aspetta. Cos'è il diamante, Angelina? È una pietra come tutte le altre, come qualsiasi altra pietra. Infatti i diamanti, a volte trovo diamanti, è una pietra, non la riconoscono neanche. Viene a lucidarla, e allora dentro è un cristallo. Però questo diamante, pur essendo una pietra come le altre, all'inizio è una pietra, però passa per esperienze straordinarie e diventa diamante. Se vuoi sapere il processo esatto come succede, va bene? Basta che chiede un esperto, ti spiega. D'accordo? E allora, Angelina, persino di Gesù fu detto cosa? Ebrei 5, verso 8. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Ebrei 5, verso 8. Sai cosa dice il versetto prima, qui? Ebrei 5, 7. Che Gesù pregava con alte grida e con lacrime. Wow. Io non mi immagino mai Gesù pregare così, perché mi immagino Gesù sempre in controllo, che ha la potenza di Dio. E come mai che Dio dà la super grazia, super graziosi, a Gesù non gli era dato la super grazia? Com'è che diceva e gridava? Ebrei 5, 7. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche. Capito? A colui che poteva salvarlo dalla morte. Il Paolo diceva che offrì preghiere con lacrime e suppliche. Diglielo a quelli della super grazia, i ciarlatani della super grazia. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Gloria a Dio, gloria al Signore. Gesù, anche lui imparò, e di lui fu scritto? Isaia 50, versi 5 e 6. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non sono stato ribelle, non mi sono tirato indietro. Io ho presentato il mio dorso a chi mi percoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba. Io non ho nascosto il mio volto agli insulti e agli sputi. Isaia 50, versi 5 e 6. Si usava nel Vecchio Testamento che se uno schiavo amava il padrone e gli finiva il tempo di schiavitù ed era libero, però Bibbia dice che se uno schiavo ama il padrone e vuole rimanere col padrone, allora il padrone gli pratica un foro nell'ombo dell'orecchio e gli mette un anello d'oro. Gli metteva e quella era la sua gloria, cioè lui andava in giro, cioè era un schiavo libero, era un amico del padrone. Come ha detto Gesù, non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Capisce che nel cuore mettiamo l'anello di Gesù, si chiama la sposa di Cristo, quando noi serviamo il Signore non perché siamo obbligati, perché siamo servi, schiavi di Allah, dicono. No, sì, siamo servi, sì, però giunge il momento che te dici non voglio servire solamente perché sono obbligato, così non vado all'inferno. No, io lo servo perché lo amo. Cioè il marito la moglie hanno doveri, prendersi cura uno dell'altro, un ammalato l'altro prendersi cura, è un dovere matrimoniale, però uno può farlo anche per amore, può farlo anche non per dovere ma per amore. Amen. Conosco una una casa che avevamo affittato qui, abitavamo lì e la moglie del titolare abitava in una villa lussuosissima e noi abbiamo affittato una piccola casa lì di Bethlehem che ci affittavano e allora avevano una donna, una serva che lavorava per loro e le ha serviti per tanti anni poi questa donna è invecchiata è invecchiata e si è ammalata e doveva stare a letto questa serva e allora ci hanno raccontato la storia infatti quando siamo andati a trovarli che ci hanno ricevuto ci volevamo molto bene con questi erano brava gente lui discendenza italiana lei discendenza spagnola famiglia di benestanti questi qua molto ricchi e allora ci hanno raccontato di questa serva che avevano che cucinava puliva la casa poi con l'età con l'età lei si è ammalata e doveva stare a letto la serva la serva si è ammalata la serva e allora i padroni di casa siccome lei era stata così fedele era più che una serva era un amica e allora hanno cominciato ad accudire lei lei stava letto tutto il giorno e i padroni di casa gli compravano le medicine chiamavano il dottore l'aiutavano e sono diventati i suoi badanti praticamente è ancora vivo? sì ho incontrato è ancora viva? sì 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 io l'ho incontrata anni dopo quando sono andata a visitarli è guarita è guarita l'ho incontrata gloria a Dio la padrona di casa di quale tu parli mi ha detto Sonia Sonia per noi è come parte della famiglia capito i padroni dicevano questa serva è parte della famiglia gloria a Dio grazie Gesù anche Gesù dovette imparare con le sofferenze neanche Gesù ebbe la super grazia 700 anni fa Isaia diceva dice di Gesù diceva non sono stato rivelle sì l'abbiamo letto giusto e ho presentato il mio dorso a chi mi percoteva gloria gloria Signore ora le sofferenze vengono dal diavolo però oppure non sempre dal diavolo vengono anche le nostre disobbedienze il nostro egoismo i nostri i nostri meritati problemi che se io tratto male mia moglie e mi merito che magari succeda qualcosa che non dovrebbe succedere me lo sono meritato io non è colpa del diavolo è colpa mia e allora diciamo il fatto questo fatto si applica anche ai veri santi di Dio cosa si applica che a volte è necessaria la sofferenza per poter capire qualcosa non è che Dio si diverta dalla sofferenza però le permette che vengono magari dal diavolo per insegnarci qualcosa c'è uno che non conosce il valore del denaro e sperpe i soldi sperpe l'eredità eccetera merita di essere povero può pentirsi Dio può cominciare a benedirlo piano piano ma se tu sperpe il denaro tu meriti di essere povero attenzione a regalare tutto ai figli insegnategli a guadagnarselo non insegnate ai figli che tutto è gratis tutto per grazie no no neanche Gesù faceva così è dovuto imparare l'ubbidienza tramite le cose che ha sofferto nessuna possiamo dire allora che praticamente lo scopo di questa vita dal punto di vista di Dio non è tanto di vivere nel benessere tutto bene superficiali ma di imparare lezioni è quello che Dio vuole di insegnarci lezioni preparare il nostro cuore per la vita che veramente sarà la vera vita che viene qui è solo come la scuola dove impariamo 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 amén sono delle persone che Dio usa sono nati santificati perfetti senza peccati tutto al contrario com'è che è nato Davide il grande Davide è nato senza peccato di adulterio no c'era una passepa che l'aspettava all'angolo e Sansone anche lui diciamo neanche Sansone è nato con la saggezza di come non farsi abbindolare dalle donne sbagliate compreso una certa Dalila Salomone neanche lui il cosiddetto uomo più saggio della Bibbia con le donne aveva molta saggezza quante volte ha sbagliato almeno mille volte almeno mille volte ha fatto fiasco Sansone beh se proprio erano mille e mille non lo so però se mille erano 999 volte ha sbagliato quindi era sì saggio però insomma chiunque sia stato usato da Dio ha dovuto prima passare per esperienze sbagli peccati che lo hanno cosa? preparato ammaestrato per l'opera per la sua chiamata per il particolare lavoro che Dio aveva per lui e Mosè Mosè era orgogliosa non lo so è scritto su Deuteronomio e l'ha scritto lui perché è scritto lui Deuteronomio dice che era era l'uomo più umile del mondo c'è scritto che l'ha scritto Mosè uno che è più umile del mondo scrive io quanto sono umile cioè sai l'uomo che in una chiesa hanno fatto la gara ha detto fratelli c'è troppo orgoglio superbio su questa chiesa faremo una competizione che è il più umile alla fine del tempo hanno eletto il fratello più umile in questa chiesa sono andati da lui e gli hanno dato un badge come in italiano il badge sai una cosa che si appende al taschino e si è una specie di emblema e c'era scritto il più umile della chiesa e allora sono andati da lui tutta la chiesa a guardare fratelli abbiamo trovato la persona più umile fratello tal detale vieni pure si è presentato e gli hanno gli hanno offerto la medaglia il più umile lui l'ha presa se l'ha messa sulla camicetta il pastore è andato e gliela ha tolta ma tu non la dovevi accettare se veramente sei più umile non l'avresti accettata e gliela ha tolta allora che senso ha questo fatto che Mosè ha scritto di se stesso che lui è il più umile sulla terra come può Mosè dire questo di se stesso ma guarda vai ai numeri 12 leggilo verso 3 or Mosè era un uomo molto umile più di ogni altro uomo sulla faccia della terra numeri 12 verso 3 e chi l'ha scritto questo? il libro il libro di numeri? si Mosè Mosè pentateutico e allora come spieghi? ricorda un casino che si scrive un libro che noi stiamo scrivendo libri qua di mettere il fratello Giuseppe il più 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 e facendo i miei nemici dicono allora va bene e come si spiega perché ha detto questo di se stesso? perché era la verità ah si? era la verità? certo e lui sapeva che lui era il più umile sulla terra? ma è stato lo spirito santo a scrivere il pentateutico quello si quello d'accordo però ha detto che Mosè era orgoglioso? si Mosè è orgoglioso perché cosa credeva? credeva che uccidendo gli egiziani Dio avrebbe liberato il popolo di Dio allora orgogliosamente ha ucciso un egiziano non è orgoglio questo? questo prima si si ci ha avvenuto 40 anni a imparare la vera umiltà ok ok dopo ha potuto scrivere che era più umile però per diventare più umile di tutta la terra ci ha avuto 40 anni di pescolare le pecore eh si va bene si 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 allora lui credeva che uccidendo avrebbe liberato il popolo di Dio uccidendo gli egiziani non era pieno di Dio dovete fuggire a Madian e fare il pecoraio per imparare l'importanza di ascoltare e aspettare che sia Dio a operare gloria al Signore questa foto l'hai messa sulla radio tu? si questa si questa donna che corre con il gran sorriso si il gran sorriso allora sta facendo una cosa una maratona sta facendo cioè anche noi siamo in una maratona per Gesù quindi vivere perennemente sotto la grazia come certi predicano non avviene a nessuno non ci credete questa gente non c'è la super grazia va bene c'è il super insegnamento più facile le super sofferenze che la super grazia però se preghi allora Dio può mandare la grazia se fai la tua parte cioè vedi Romani capitolo 7 non c'è non c'è qualcuno che è sempre sotto la grazia o che riceve una super grazia no questo è perché il genere umano è caduto e per la perfezione dovremmo aspettare il cielo finché siamo umani non c'è perfezione neanche Gesù era perfetto nella carne perché mi chiami buono qualcuno mi risponde perché Gesù ha detto perché mi chiami buono Marco capitolo 10 Matteo 19 stessa storia lì dice maestro buono tra buoni ci capiamo no? buono tu buono anch'io e Gesù ci fa cosa? tra buoni ci capiamo? perché mi chiami buono? così era Angela questa era una bugia era finta umiltà era una parabola perché dice Gesù come se Gesù è Dio se Gesù è Dio perché dice perché mi chiami buono? ma voi come state litigando? sul microfono litigano no davvero sul microfono uno vuole al microfono l'altro dice no e quando litigano chi c'era il microfono? John sempre John gira rigira lui lui il capitano della nave ok John what do you want to say? it's just that one guy vuole parlare one guy said he said when Jesus said I'm not good it wasn't that he was saying hey don't call me good call me sinner Jesus he said obviously he wasn't saying that he was saying like you're speaking so fast I don't understand oh my gosh at least I should understand because I'm supposed to answer you scusate fratelli ma parli così veloce che neanche io ti capisco in inglese ma come faccio a rispondere you go like a train come on let's go vai come un treno ok man this guy I heard talking about exactly what you just said ho sentito qualcuno dire su questo passaggio biblico he said that when Jesus said why do you call me good he wasn't saying oh don't call me good next time call me sinner Jesus non voleva dire oh non chiamarmi buono prossima volta chiamami peccatore Gesù il peccatore exactly he said he wasn't saying that he was just saying why are you calling me good what are you trying to get at no 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 non diceva questo ma stava dicendo perché mi chiami buono cosa vuoi veramente da me exactly because normally people don't go up to you and say you're a good person normalmente nessuno viene da te a dirti tu sei così buono no vuole qualcosa da te so that's why that's one thing that's somebody said about this così lo ha spiegato qualcuno what do you think about it tu cosa pensi cioè allora lui ha detto che non era buono perché quell'altro voleva qualcosa yeah it was like flattering him why do you flatter me what do you want really from me aspetta vediamo la versione questo è il Vangelo secondo John adesso vediamo il Vangelo secondo Paul just to clarify what he said Paul dice chiarirò quello che ha detto what the man said he said it's that Jesus wasn't denying that he was good all he was saying is that do you know what you're saying why do you call me good only God is good are you calling me God that's what he was saying why do you call me good are you calling me God è un'altra versione Gesù ha detto perché mi chiami buono tu sai che solo Dio è buono solo Dio quindi mi chiami Dio that's what John was trying to say è quello che John voleva dire John John dice no non volevo dire quello John hai bisogno di un traduttore quando parli John dice non volevo dire così è peggio di quello che ho detto senti ma dobbiamo litigare in diretta sembra di sì dobbiamo litigare in diretta radio no forse è più tardi quando ci riuniamo a trans è solo una interpretazione tu cosa pensi di questo ma io credo che Gesù nato da Maria Vergine Dio la benedica Maria ottima grande santa non è testa adorata però cioè non era non era diciamo non aveva la carne di Gesù non era Dio era lo spirito santo che ricevete sul Giordano che era Dio perfetto tutti gli effetti cioè Gesù era due persone Dio figlio di Dio e figlio dell'uomo allora il figlio dell'uomo non era perfetto di una perfezione celestiale che non puoi morire che non ti puoi ammalare non sei stanco non hai bisogno di mangiare non era questo non era peccatore logico perché lui diciamo non era peccatore però il suo corpo non era non era divino il suo corpo carnale era un corpo carnale che poteva morire ed è morto quando lo frustavano il dolore lo sentivo come lo senti tu i chiodi come li sentiresti tu come li ha sentiti Pietro e gli altri e allora non era buono nel senso divino prima prima lezione come la vedo io ma mai magari qualche fratello c'è interpretazione migliore per favore mandate correggetemi e poi c'è anche un'altra cosa Gesù stava anche prendendo la palla al balzo perché mi chiami buono cioè perché non c'è nessuno buono tutti hanno peccato sono privi della gloria di Dio tutti meritiamo l'inferno tutti e Gesù come che non meritava l'inferno però aveva un corpo umano era figlio dell'uomo se non era figlio dell'uomo come tutti noi allora diciamo avrebbe barato davanti al diavolo quando il diavolo l'ha tentato come tenta noi e per lui è facile lui è Dio lui non ci fa neanche solletico invece no è stato tentato sotto tutti i punti come ciascuno di noi allora la seconda lezione è insegnare che nessuno è buono quindi dicendo io non sono buono stavo dicendo se io non sono buono nessuno lo è io 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 non sono buono diceva Gesù io figlio dell'uomo non è non è figlio di Dio che parli figlio dell'uomo infatti nel Gesemene quando dice allontanare la coppa della sofferenza del calvario era figlio dell'uomo che parla non era figlio di Dio perché figlio di Dio cioè come fa a crucifiggere lo spirito però era figlio dell'uomo che diceva allontana sta coppa perché Gesù era veramente 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 uomo con tutti i limiti però senza peccato attenzione John ha ripreso il microfono allora cosa significa abbiamo letto in ebrei 5 lui ha imparato l'ubbidienza dalle cose che soffri vuol dire che Gesù è stato disubbidiente e ha dovuto imparare l'ubbidienza no non è disubbidiente perché l'ha imparata ha imparato attraversando le stesse battaglie che noi attraversiamo dice Jasmine però sempre vittoriosamente a differenza nostra che non siamo il figlio di Dio siamo figli di Dio ma non siamo il figlio noi non è che ogni volta passiamo vittoriosi per lo meno non sovo io no nello spirito era perfetto la carne io direi direi di no è una carne che poteva morire infatti è morta è una carne che sentiva il dolore come noi le frustate i chiodi le spine l'angelo accostato cioè era già morto va bene ecco fino a lì arrivo io poi qualche fratello riceverà una rivelazione e fatemi sapere stretto il giro di posta ci siamo allora torniamo all'aratro si parlavi del fatto che vediamo i romani capitolo 7 che nessuno può vivere perennemente sotto la grazia neanche Paolo il più grande apostolo è riuscito a stare sempre nello spedito sempre nelle nuvole non si può cioè vivi nella carne e la carne ti limita come anche Gesù è stato limitato ti limita ti limita come anche Gesù è stato limitato dalla sua carne sì però senza pecare invece Paolo dice il male che io non voglio fare quello io faccio quindi Paolo Dio lo benedica è un esempio un grande esempio va bene dice io sono buona nulla romani 7 questo capitolo qui dovrebbe distruggere tutte le false dottrine della super grazia dov'è la super grazia la grazia c'è solo quando tu ubbidisci la grazia è un premio non è una garanzia come la salvezza tu anche se la udicea la chiesa dal vomito allontanatevi da me io non voglio vedere non vi conosco Matteo 7 21 va bene quindi la grazia te la meriti quando ti porti in un certo modo ci siamo? sì va bene allora andiamo ad Amadeva ok sì quando Ad Amadeva cadero nel giardino è stato come una specie di titanica affondata no? il titanico del giardino di Ad Amadeva affondò nel giardino ascoltarono il diavolo ma una chiesa non è una specie di chiamiamola scialuppa di salvataggio in mezzo al mare che una volta che sali dentro puoi spassartela cantericchiare canti religiosi rilassati non devi remare no dormi tranquillo e in quel modo vai alla deriva non arriverai mai da nessuna parte va bene non ti dirigi da nessuna parte ma devi avere qualche senso di direzione sai quelle vele di salvataggio a volte attaccano una vela e dicono ok dirigiamoci il sole sorge di là tramonta di qui quindi se sorge qui se sorge lì quello è l'est tramonta quello è l'ovest quindi vuol dire che il sud è da questa parte il nord siamo affondati lì stavamo andando là e ci dirigiamo verso là verso verso l'ovest verso l'est cioè dirigiti così almeno c'è una chance no? altrimenti non è neanche la speranza guarda se vogliamo imparare dal Titanic stavo meditando sul Titanic e c'ho qualche appunto sul Titanic vuoi sentirli? sì allora i sopravvissuti furono 700 del Titanic dovessero barcamenarsi va bene e stare svegli questi 700 sulle scialuppe per evitare cosa? a evitare c'erano gli iceberg era una zona infestata di iceberg stare attenti a non andare contro un iceberg che la scialuppa si può rompere e quindi sono rimasti svegli fino a che è arrivata una nave che si chiamava Carpatia cioè le montagne della Romania Carpazzi arrivò una nave che si chiama Carpatia e arrivò quattro ore dopo l'affondamento questa nave non molti sanno che vi era un'altra nave vicinissima a 16 chilometri di distanza era questa nave invece Carpatia era a 115 chilometri circa dal luogo del disastro e perché non è arrivata all'altra la nave che era vicina vicina quasi la potevi vedere si chiamava Californian una nave britannica però l'addetto della Californian l'addetto radio non rispose all'SOS perché solo pochi minuti prima che l'SOS arrivasse si è addormentato ha fatto un pisolino è andato a dormire e è mancato l'SOS ed era lì a pochissimi chilometri circa 10 chilometri mentre la Carpatia giunge sul luogo del disastro ecco esattamente erano ecco 107 chilometri esattamente di distanza la Carpatia ci mise 4 ore a fare 107 chilometri il capitano del Titanic si chiamava Edward Smith un capitano che fu fedele fino all'ultimo e morì con quelli della nave che non si poterono salvare il suo corpo non fu mai recuperato allora c'è la foto lì Titanic ecco quella è il capitano quella è la vera foto di lui Edward John Smith si anche quella se vuole la puoi mettere sulla radio ok e allora anche se non attraversiamo le esperienze del Titanic ogni uomo di Dio sicuramente attraverserà certe esperienze in questa vita e magari anche qualche affondamento di qualche Titanic personale io ho passato di diversi affondamenti è stato solo la grazia di Dio che mi ha che mi ha aiutato ma grazia non è che ho meritato però perché ho invocato il Signore e allora queste esperienze sono per insegnarci come comportarci camminare per fede lezioni di onestà persistenza nel Signore lezioni di come continuare a proseguire quando tutti si fermano quando tutti gli altri mormorano contro Dio contro i fratelli e noi continuiamo queste sono le esperienze che ci aiutano a diventare l'uomo di Dio l'uomo la donna di Dio quando nel mezzo della difficoltà come quella dolce sorella che abbiamo parlato oggi in Skype Silvia nel mezzo della tribolazione lei è lì nella mano di Giampaolo sono qui amore mio non ti lascio ti sostengo ti sorrego ti incoraggio un po' un'immagine dello Spirito Santo Dio ti benedica Silvia sei un grande esempio le dice eh ma io una volta sono nervosa dico cosa è sbagliato ho poca fede ma a me mi sembra molto molto onesta questa donna grazie dove sono oggi quelli che ammettono di avere poca fede ammettono di essere debole Dio ti benedica Silvia in questo voglio darti voglio lodarti gloria Signora guarda parlavo di Abele nel giardino parlavo di Amedeva io sono convinto che nel giardino dell'Eden quando Abele si inginocchiava davanti all'altare impariamo qualche lezione anche da lui io non so io mi immagino Caino che lo guardava con invidia con malocchio prima di ucciderlo e questo perché Caino non capiva perché Dio doveva benedire Abele e non lui legge la prossima scrittura Angelina Genesi 4 versi 3 a 5 avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore Abele offrì anche egli dei primogeniti del suo greggio e del loro grasso il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta ma non guardò con favore Caino e la sua offerta Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto Genesi 4 versi 3 a 5 ecco ogni uomo è di Dio voglio dire capita ed è venuto anche a Gesù capita di essere odiato malignato per la sua fede nel Signore non vi è capitato è capitato solo a me non credo no no Angelina no sei stato sì certo vai a evangelizzare sicuramente qualcuno ti insulterà o non ti riceverà o ti ti farà sentirti male ti perseguita sì ti ricordi mi hai raccontato che c'erano quei parenti che ti perseguitavano moltissimamente poi sono morti no sì incidenti d'auto successo sì ma prima di morire sono convertiti e sei andato a trovare l'ospedale sì e prima ti perseguitavano al 200% sì 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 tra l'altro questo tu zio era una persona in grande autorità eh avevo paura di lui comunque una lunga storia lì comunque è inutile voglio dire cercare di trovare motivi misteriosi cioè oppure usare paroloni di psicologia di alta alta psicologia inutile andare a capire la la psiche di Nietzsche gente intellettualissima che cercavano di insegnare a tutti ma che la verità di Cristo non l'avevano capita neanche loro stessi infatti non avevano capito neanche gli atei non sanno perché nascono perché vivono perché muoiono e poi magari fanno i filosofi si mettono in cattedra vogliono insegnare a tutti se tu non hai neanche capito perché sei nato credi nell'aborto credi nell'eutanasia cioè il mondo intellettuale adora Nietzsche oggi cioè hanno fatto un idolo ma lui era un uomo che non conosceva Dio cos'è che proclamava Nietzsche? conoscete il proclame di Nietzsche? Dio è morto circola una leggenda secondo la quale qualcuno avrebbe scritto sulla tomba di Nietzsche Nietzsche è morto firmato Dio quello più vero sì cioè il poveraccio dopo una vita di disprezzare Dio morì dopo circa vent'anni di malattie sessuali sfili eccetera dovute alla sua diciamo così dubbia moralità oltre a malattie mentali depressioni maniacali psicopatie periodiche cioè non è che il suo ateismo il suo disprezzo contro Dio gli è stato di grande benedizione cioè Dio semplicemente lo ha lasciato ha lasciato la sua scialuppa di andare alla deriva dei mari fai quello che ti non vuoi Dio fai quello che ti pare il fatto è che nella vita di un vero uomo di Dio le esperienze lo preparano alla vita nel regno nel regno dell'amore di Dio che viene che viene presto quanto presto guarda quanto è distante da noi che è pratico di galassie di sei anni luce ci vuole un anno viaggiando alla velocità della luce ci vogliono quattro anni alla velocità della luce per arrivare alla stella più vicina quattro anni di viaggiare alla velocità della luce chi è che sa quanto è distante da noi il regno di Dio non lo so sei la solita dora che alza il ditino dimmi John la stella più vicina è quattro anni di velocità della luce quanto credi che è distante il regno di Dio bravissimo la distanza della morte da noi esatto un battito di cuore circa 90 battiti al minuto quindi diciamo meno di un secondo quindi il regno di Dio dista da noi meno di un battito di secondo quindi quelli là che vanno in giro a parlare contro Dio ci riflettano sono molto vicini al tribunale di Dio comunque l'esperienza dell'uomo senza Dio non lo preparano a niente cioè la gente atea ha anche loro la loro esperienza anche molti capita anche a loro qualcuno che va in prigione capita anche a loro qualcuno che si ammala capita anche a loro qualcuno che prende un cancro che prende una malattia mortale oppure trascinano come Nice trascinano una sifilide per vent'anni con depressioni mentali tanto che alla fine molti di questi si suicidano e cos'hanno imparato questi senza Dio la cosa triste è che non solo soffrono tante cose ma che le soffrono in vano gloria a Dio le esperienze dell'uomo senza Dio non lo preparano a nulla non lo preparano al mondo a venire perché nella loro malattia nella loro sofferenza incolpano Dio invece di invocarlo e benedirlo grazie grazie Signore sono ammalato sto morendo però grazie Signore vengo da te io ero recuperato in Polonia mi hanno fatto due trasfusioni di sangue e non sapevo se sarei sopravvissuto certo se ero testo di Geo e sarei morto trasfusione di sangue e bestemmia per loro e allora cosa facevo io mi ricordo perfettamente pregavo lo davo Dio Signore mi sa che forse arrivo Signore se se tutto va bene o tutto va male dipende dal punto di vista arrivo vedrò gli angeli capito ero contento ma l'uomo senza Dio dice perché ti lamenti devo abbandonare i miei soldi e magnetali questi soldi mettali dentro nel cappuccino i tuoi soldi stolti allora l'esperienza di un ateo lo aiutano un pochino solo in questa vita andare avanti nella sua vita egoista ma in un mondo senza Dio dove tanti fanno a gara su chi è più egoista molti fanno gara a sfruttare ad approfittarsi ad abusare degli altri è una specie di gara che c'è nel mondo sto parlando del mondo senza Dio senza moralità senza verità in questo mondo i senza Dio cosa impareranno in che modo Dio potrebbe riceverli nel suo regno non hanno imparato niente basta guardare i comportamenti di molti imbroglioni politici come se se la danno a gambe si dileguano con le borussone piene di soldi per così dire soldi dalle tasse che hanno dei super tassati cioè in troppi casi e farsi a legge oggi significa solo ottenere un turno per la cuccagna ho vinto io le elezioni e il mio turno di rubare fatevi da parte se vedi certe facce di questa gente che sono al governo parola mio non mi fiderei a lasciare non dico mia figlia di 17 anni ma neanche mia nonna di 99 ma le hai visti in faccia questi qua caro mio che pensagli da forca gente che andrebbe arrestata quasi quasi solamente per l'apparenza allora che succede al credente in Dio e le sue esperienze l'esperienza del credente in Dio invece gli insegnano come servire il Signore come servire gli altri come prepararsi per il regno di Dio come prepararsi che quando arrivi in cielo il Signore non ti dice non ti conosco continuo a pedalare dove Signore dove ti pare lontano di qui è biblico Angela dove lo dice in Matteo 7 21 a 23 bravissima Angela 10 con lode oh anche lode la medaglia della più umile no no non la voglio non la voglio per favore no no io no non è per me nessuno vuole la medaglia più umile qua no no grazie sembra che avete imparato qualcosa qua allora leggiamo nella parola qual è la legge del cristiano Angela 1 Corinti 10 24 vai in quarta nessuno cerchi il proprio vantaggio ma ciascuno cerchi quello degli altri 1 Corinti 10 24 Romani 15 1 3 or noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene a scopo di edificazione infatti anche Cristo non compiacque a se stesso ma come è scritto gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me Romani 15 da 1 a 3 1 Corinti 10 31 33 sia dunque che mangiate sia che beviate sia che facciate qualche altra cosa fate tutto alla gloria di Dio non date motivo di scandalo né ai giudei né ai greci né alla chiesa di Dio così come anche io compiaccio a tutti in ogni cosa cercando non l'utile mio ma quello dei molti perché siano salvati 1 Corinti 10 31 a 33 alleluia bello e dite alleluia alleluia avete visto la nostra chiesa qui come agile alleluia non devi neanche menzionarlo già partono in quarta alleluia ve l'ho detto qui è tutto in quarta questo qua è cristiano questa scrittura che abbiamo letto questo è il vero figlio di Dio ecco qualche amen grazie per gli amen sapete che non c'è sovrapprezzo quando lo date Dio dite amen non c'è tutto allora allora cosa preghiamo che Dio ci aiuti ad essere così come così come come le scritture che Angela ha letto Dio la benedica perché allora tutte le esperienze tutte le difficoltà che stiamo passando che sto passando che state passando che tutti passiamo Angela anche tu stai passando sì tutti sì varranno la pena e saranno una benedizione benedizione ancora un trampolino un trampolino brava una purificazione una preparazione per il nostro regno alleluia vado a prepararvi un posto ha detto qualcuno affinché dove io sono siate anche voi e allora cerchiamo di non sprecare cerchiamo di non sprecare cosa qui non indovinate mai nessuno indovinerà questo cerchiamo di non sprecare le lacrime fuocherello brava bravissima fuochissimo le battaglie le battaglie non sprechiamo le nostre malattie non sprechiamo i nostri cancri la nostra leucemia i nostri raffreddori la nostra tosse le nostre difficoltà tutto quello che il diavolo fa contro di noi usiamole per crescere nella fede usiamole per imparare a scacciare il diavolo usiamole per imparare a lodare Dio nella tempesta e nella tormenta e quando tutto va storto e quando tutti i nemici ti sparano addosso su con lo scudo non sprechiamo le crisi non sprechiamo le difficoltà ma usiamolo prendiamo le nostre come si chiama le nostre stampelle e facciamole tramutiamole in trampolini alleluia amén gloria grazie signora amén alleluia allora tutte le difficoltà varranno la pena e saranno una preparazione per il regno di Dio il regno di Dio ma c'è solo uno che segue fratelli so che noi stiamo facendo una bella figura ma dico siamo qua a criticare l'audicea non vogliamo che boomerang ritorna su di noi no amén forza sintonizziamoci abbiamo un altro bel messaggio che lo hai recommended to the brethren che tu lo raccomandi ai fratelli che si chiama le crisi sono l'opportunità di Dio per operare i miracoli gloria quindi le crisi sono un trampolino alleluia amén in questa battaglia io sto imparando a lodare Dio in questa malattia sto imparando a avere fede dovesse morire dovesse morire morirò lodando Dio che anche se io muoio di un cancro ma non morirò di cancro perché di cancro morirà il diavolo amén anche se dovesse morire di una malattia Gesù mi ha guarito nello spirito il mio corpo spirituale io entrerò nel regno di Dio ballando saltando lodando e benedicendo Dio ecco gloria sta infatti saltando alleluia gloria a Dio gloria a Dio ti benediciamo ascoltiamo un rimprovero di Paolo che vuole ascoltare un rimprovero no noi vogliamo solo carezze vogliamo solo il Vangelo zuccherato qui c'è un rimprovero di Paolo andiamo Paolo ai fratellini di una chiesa che si chiamava Galati Angela non ce l'hai lì? sì Galati 3 versi 3 e 4 vai siete così insensati? dopo aver cominciato con lo spirito volete ora raggiungere la perfezione con la carne? avete sofferto tante cose in vano? seppure è proprio in vano Galati 3 versi 3 e 4 un avvertimento di Paolo agli ebrei 10 36 a 39 Angela infatti avete bisogno di costanza affinché fatta la volontà di Dio otteniate quello che vi è stato promesso perché ancora un brevissimo tempo è colui che deve venire verrà e non tarderà ma il mio giusto per fede vivrà e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita ebrei 10 36 a 39 ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà in realtà Gesù è già venuto no? state aspettando il rapimento voi o no? sì ma Gesù è già venuto contratto uno un contratto un cosiddetto profeta molto cosiddetto che mi ha detto diceva mi diceva a me e a altre altre persone il rapimento è già venuto dicevo così allora per me Gesù è già venuto per te Angela? è venuto una volta però deve venire il rapimento il rapimento non è venuto quando è venuto una volta? quando ha salvato la mia anima è venuto nel mio cuore però però sto aspettando il rapimento a te non riesco mai a farti tra pochetti questa qui è stata in giro la parola abbastanza tempo vedo sono stata in giro a te prossima volta prossima volta mi involgerò verso l'ala sinistra della chiesa qua è vero Gesù è già venuto va bene è già venuto nel mio cuore il rapimento il rapimento non è niente paragonato a quando Gesù mi è entrato nel cuore lo sai? sì è vero perché c'è gente cristiana che sono salvati muoiono senza rapimento cosa cambia? sono felici benedetti in cielo sono persone che hanno avuto esperienze dopo la morte hanno detto cristiani hanno detto andare in cielo è come uscire da una stanza e entrare in un'altra è tutto lì cioè non è che ti fa dolore come una donna che deve partorire no niente esci dal corpo ed entri nel regno di Dio gloria a Dio e allora cos'è che allora Dio ci dirà a quel punto se noi andiamo avanti per fede guardiamo a Gesù cos'è che ci dirà Matteo 25 e 23 Angela il suo padrone gli disse va bene servo buono e fedele se è stato fedele in poca cosa ti costituirò sopra molte cose entra nella gioia del tuo Signore Matteo 25 e 23 immaginate Gesù a braccia aperte John Adriano Paul tutti quanti voi Gloria eccetera Gesù li a braccia aperte non sarà bello arrivare in cielo e non sentire l'audicea di là qui solamente Philadelphia e tu dici dov'è che appartengo io e questo io non ti rispondo questo risponderai tu non è bello arrivare in cielo a trovare in Gesù a braccia aperte e dire John Paul Jasmine Angela non è bello a trovare in Gesù a braccia aperte come no è un sogno mi è capitato di incontrare uno che non voleva vederti e tu non volevi vedere lui e che cambiavano lo sguardo o tu cambiavi lo sguardo o no quello io non voglio sì ti immagina arrivare in cielo così oh no 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 angeli sì signore calate il sipario io non voglio vedere che sta arrivando saremo fedeli ci meriteremo ci meriteremo questa grazia non lo sappiamo ma dipende da Dio non dipende da Dio dipende da Dio se in cielo sarò benedetto o no non dipende da Dio questi sono i falsi profeti la grazia per tutti ma quale grazia per tutti imbroglione mi potete dire dove la grazia dell'odicea o di Sardi sono due chiese Apocalisse 3 Gloria al Signore guarda mi ricordo la poesia racconto che ho trovato e ho messo qui da presentare ai fratelli ce l'hai Angelina una poesia interpretata da Arnoldo Foa era un artista ebreo che è morto nel 2014 e che tanto sembra rappresentare l'inutilità della situazione in Ucraina ed altri simili che sicuramente seguiranno capite di cosa parlo voglia Dio che i fratelli rimasti in Europa prendano a cuore tutti i ripetuti avvertimenti che da anni Dio ci sta dando così che chi non dovrebbe trovarsi si troverà in una situazione come in Ucraina che adesso stanno parlando di leva partire prepararsi andiamo ammazziamo tutti ma che vadano loro per cortesia mettiamo la mettiamo la poesia mettiamo la poesia la ascoltiamo si ascoltiamo la poesia e poi voglio parlare voglio spiegare un po' che qui bisogna parlare in parabole di questi tempi perché c'è un controllo che voi non vi immaginate dovete aprire una radia per capirlo Angelina la poesia di Arnoldo Foa riguardo quello che le cose che sta succedendo in Ucraina in giro per il mondo che gente che non voleva andarci non sa neanche perché sono scoppiati questi scontri non lo sa però gli hanno dato un'arma e inviati andiamo Angela Arnoldo Foa da quando ti ho incontrato? grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'altra sera, dal fondo di una voragine, scavata da un cannone, ho visto il tuo cielo. Di colpo mi sono accorto che mi avevano imbrogliato. Se io avessi preso almeno un po' di tempo per guardare le cose, mi sarei accorto benissimo che quelle persone si rifiutavano di parlarmi della tua verità. Mi chiedo, mio Dio, se ti andrebbe di stringermi la mano. Eppure sento che non ti sarà difficile comprendermi. È curioso che sia dovuto venire in questo luogo d'inferno per avere il tempo di vedere il tuo volto. Ti amo terribilmente. Ecco quello che voglio che tu sappia. Tra poco ci sarà un orribile attacco. Chissà, può darsi che proprio questa sera io bussi alla tua porta. Noi due fino a quest'istante non siamo stati amici. E mi chiedo se tu mi aspetterai sulla soglia della tua casa. Lo vedi? Adesso piango. Sì, proprio io. Piango come un bambino. Se ti avessi conosciuto prima. E allora bisogna che vada. È strano. Da quando ti ho incontrato Non ho più paura di morire. Arrivederci. No ho più paura di morire. 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 Ti rendi conto che questa vita veramente non è la vita che vivremo per eternità. Ma ci aspetta una vita così bella. E qui siamo solo per imparare, imparare. Essere buoni studenti e poi andare a godere tutte le benedizioni che il Signore ha preparato per noi. Veramente non mettere a cuore tutti i dolori di ogni giorno, tutte le sofferenze. Ma renderci conto che dobbiamo passarle con grazia, con un sorriso. Dio è in controllo. Continuare a amare, perdonare, prepararci per incontrare il Signore. È quello che conta, solo quello. Grazie Gesù. Grazie Signore. Grazie Gesù. Era una lettera di un soldato che è morto in trincea. Probabilmente la prima guerra mondiale. O come quelli che stanno morendo adesso, nelle guerre presenti. E poi può essere, poteva essere mio figlio, tuo figlio. E questi orrori satanici ne stanno preparando ancora. Adesso addirittura si parla di guerra atomica come una sciocchezza. Adesso fanno gara a vedere chi è il più posseduto, il più bullo, chi non ha paura. Si sfidano come a poker. Sì, ma Putin minaccia la guerra atomica. Ma, non è a poker. Scopriamo le carte, vediamo. E poi scoppia la guerra atomica e scoppia sul serio. Sono dei diavoli impazziti a piedi al libero. Il diavolo vuole più guerra possibile. Più gente muore, più lui è contento. Perché quelli che non sono salvati vanno nella sua sacca. E' lui l'angelo della morte. E' questi poveri giovani, ammaliati, plagiati dalle televisioni, dai politici, che credono veramente che bisogna fermare Putin, bisogna fermare Biden, bisogna, bisogna. E' così che è scoppiata la prima e la seconda guerra mondiale. Nel nome del diritto. Io ho il diritto di ucciderti. Mio diritto. Dice la parte A o la parte B. E' venuto Gesù e ha detto Io ho solo il diritto di essere ucciso. Io ho il diritto di morire sul Calvario. Io ho il diritto di soffrire per voi. E' tutto il contrario. Dunque attenzione fratelli che da ora in poi la radio parleremo più in parabole. Cercate di capire quello che sto dicendo. Che qui è una battaglia per... Angela tu lo sai bene, è una battaglia qui di dribblare, evitare le... Cioè c'è un controllo molto schiacciante, molto opprimente. Ultimamente ci hanno cancellato tre video su YouTube. Sì, proprio ieri Angela mi diceva che hanno cancellato altri tre video. Diciamo parole che non dobbiamo dire. Ti cancellano, capito? Non piace il messaggio. C'è, come diceva Orwell. Orwell diceva che sarebbe venuto il ministero della verità. Decidono loro cos'è vero. Due più due fa cinque perché lo dicono loro. Ma se no può fare sei, lo dicono loro. Non fa quattro, chi lo dice? Lo dicono loro. Esaia 5 dice Guai, guai. Quelli che chiamano la luce tenebre. E la tenebre è luce. Guai. E viviamo in quel periodo. E come gli anticristi e il diavolo usano la tecnologia, i microchip, usano per controllare. Voglio controllare il pensiero. Quella notizia del Canada l'abbiamo pubblicata? Sì. Sì, ieri sì. Ieri abbiamo parlato del Canada che hanno messo una legge. L'hanno già messa e la stanno mettendo? È una proposta di legge. Stanno discutendo in Parlamento una legge che è il crimine del pensiero. Ti danno fino all'ergastolo se dici cose che non devi dire. L'ergastolo è life term, in jail for life. E quindi abbiamo letto il giornale, non è fratello Giuseppe. Cioè se tu vai in giro a dire cose che per loro è cose bruttissime, per esempio genocidio, stragi, diciamo. Se tu parli di queste cose vuol dire che le farai, dicono loro. Quindi per quelli lì c'è anche l'ergastolo. Altre cose solamente dieci anni, vent'anni di galera, di prigione. A remare sulle galere romane. Erano navi per schiavi. I condannati erano condannati a remare per tutta la vita, finché morivano. Oppure morire nella battaglia. La nave affondava, loro erano incatenati. Chi ha visto i film di Ben-Hur? E qui ha illustrato bene questo dettaglio. Incatenati, se la nave affondava, morivano. Perché senza catene scappavano anticipatamente. E allora incatenati, se la nave affonda, tu muori con la nave. Queste erano le galere. Da lì viene il termine galere. Oggi ha deciso Zelensky o Putin o Biden, quello che decidono loro di fare una guerra. E tu sei incatenato in una trincea. Se volti Gabbana e scappi, ti sparano alle spalle. Lo facevano anche i carabinieri italiani. Nella seconda guerra mondiale del fascismo e anche la prima guerra mondiale c'erano i carabinieri che sparavano a chi scappava, lo sparavano alle spalle. Cioè i soldati andavano avanti e i carabinieri dietro con i fucili a controllare che nessuno disertava. Erano i tempi di Cadorna. E allora adesso questo è rappresentato dalle trincee. Ho visto dei video, ma se hai cercato e vedete anche voi, delle trincee dove non c'è nessuno romanticismo, non c'è nessuna poesia, non c'è niente di quell'eroismo di Hollywood, né Rambo, né niente. Acquitrini, piove certe trincee piene d'acqua, lì piove molto in Ucaina. E ci sono cadaveri che non riescono a portare via perché è pericoloso uscire dalla trincea e le lasceranno lì a marcire con quei topi che se li mangiano. E topi dappertutto, rattoni dappertutto. Quindi la guerra... Sono tornate le guerre di trincea, sono tornate. E allora cercate di comprendere quello che cerco di dirvi. In questa era non si può più dire apertamente quello che succede, quello che si pensa. Come ho detto, bisogna parlare sempre di più in parabole. Ci sono parabole nella Bibbia che neanche i cristiani ancora comprendono. I cristiani di oggi, molti, ancora non capiscono le parabole. Gesù parlava in un modo che a quei tempi quasi nessuno capiva. I discepoli chiesero a Gesù in Matteo capitolo 13 perché parli in parabole. Come dire, già capiamo poco. Tu parli in parabole e si capisce niente. Ma tutto il libro di Daniele e tutto il libro dell'Apocalisse è tutto in parabole. Ci sono cristiani ancora che non capiscono perché il dragone ha sette teste. E qual è la settima testa? Chi è la donna nel deserto? Chi è la sposa di Cristo? Chi è l'audicea? Chi è Filadelfia? Ci sono parabole che ancora oggi molte chiese non capiscono. E io voglio dire, fratelli, che anche noi dobbiamo cominciare a parlare in parabole e noi abbiamo aspettato al massimo, al massimo. Adesso non possiamo più aspettare perché ci chiudono. Solo ieri hanno tre video ci hanno chiuso e possono chiudere il canale. Quindi non possiamo più trasmettere. Beh, certo, continueremo a fare quello che possiamo e vi scriveremo per posta. Mandateci indirizzi, un indirizzo qualsiasi che possiamo mandarvi perché manderemo messaggi per posta. Sarà uno alla settimana, sarà uno ogni due settimane, quello che sarà, quello che Dio ci mostra. Il sito radio credo che rimarrà aperto molto più a lungo che il canale YouTube. Per questo è bene se prendete il sito radio lo notate radioblast.net e ci seguite sulla radio perché qui pubblichiamo tutti i nostri messaggi in completo senza problemi di censura. Capito cosa dice Angela? Quindi chi è i fratelli fedeli che credono che noi siamo stati mandati da Dio e che non siamo come quei come quei debosciati che i diavoletti ci accusano su internet. Sono i diavoletti che ci accusano come accusarono Gesù che lui faceva era un posseduto del diavolo cioè lui faceva miracoli con la potenza di Satana. Anasetto di Gesù Matteo capitolo 12. Stanno dicendo lo stesso di noi che siamo pedofili pedofili orgisti adulceri prostitute drogati insomma credete quello che volete va bene ognuno crede a quello che vuole noi sappiamo che siamo del Signore siamo da Dio e i nostri frutti lo mostrano chi ancora non ci credesse vada per la sua strada noi continueremo per la nostra amici come prima comunque Gesù ha detto Matteo 7.20 lo capirete dai frutti chi è chi va bene quindi guardate i frutti e decidete voi poi se vi sentite chiamate a separarvi da noi buon viaggio amici come prima nessuno vi costringe ma noi sappiamo che ci ha mandati il Signore quindi e adesso cominceremo a parlare sempre più in parabole va bene quindi usare discernimento pregare per il dono del discernimento perché il controllo su di noi è veramente grande cioè voglio dire che Dio non vuole che ci lasciamo coinvolgere dal sistema in situazioni simili a quelle di cui parlavo prima i presenti scontri in Ucraina va bene quindi non capito fratelli non guerra in Ucraina ma scontro scontro capito come prima c'era la il problema che abbiamo avuto negli anni passati erano erano seringate ci siamo una piccola febbre cioè dobbiamo parlare così se noi vediamo nella l'epistola di Giovanni così credo che la sia Angeleggi secondo Giovanni 1-1 questo illustra quello che sto cercando di dire perché Gesù parlava in parabola e anche gli apostoli l'anziano alla signora eletta e ai suoi figli che io amo nella verità e non solo io ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno ok quindi qui sta parlando alla signora eletta capiterò un modo per dire alla pastoressa di questa chiesa cioè qui Giovanni parlava in parabola non dice l'apostolo il il pastore dice l'anziano va bene alla signora eletta che linguaggio è questo perché a quei tempi ti crocifiggevano se ti pescavano e loro usavano un linguaggio diverso anche oggi ci crocifiggono su internet se non gli piace quello che diciamo ma il verso 4 mi sono molto rallegrato di aver trovato fra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal padre ecco allora per esempio questa scrittura ha letto 4 si si dice mi sono rallegrato di aver trovato tra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità alcuni che camminano nella verità neanche tutti neanche molti alcuni in questa chiesa solo alcuni camminavano nella verità cioè traduzione tradotto si può leggere così cara sorella pastoressa eccetera alcuni dei tuoi figli cosa vuol dire discepoli membri di chiesa sto traducendo alcuni di voi alcuni dei tuoi figli camminano nella verità cosa sta dicendo camminano in Cristo Gesù è la verità la via la verità è la vita è tutto in codice capito chi prendeva questa missiva non capiva niente era in codice a quei tempi non c'erano le chiavi computerizzate i codici del computer allora Gesù però aveva le parabole e ancora oggi il mondo non capisce le parabole di Gesù non capisce le allegorie i rebus di Daniele dell'Apocalisse ed altre viene qui guarda verso 5 ora ti prego e ora ti prego signora non come se ti scrivesse un comandamento nuovo ma quello che abbiamo avuto fin da principio amiamoci gli uni e gli altri quindi tutto il linguaggio non parla di Bibbia non parla di Gesù Cristo non parla dei discepoli non parla della pastoressa o della diacona come i romani i romani 16 1 ti raccomando Febe una diaconessa della chiesa in Cencrea va bene lì parlava chiaro qui non può parlare chiaro infatti poco dopo lui verrà arrestato Giovanni l'apostolo a Roma lo arrestano e erano molto arrabbiati con lui perché lui convertiva troppa gente allora scaldarono un calderone grande enorme pieno di olio e nell'olio bollente lo buttarono dentro a Giovanni quello che scrisse l'apocalisse questo prima che scrivesse l'apocalisse e siccome il signore ha visto che non era suo tempo per morire l'olio bollente non gli ha fatto niente e allora in silenzio senza gran cassa fanfara lo esiliarono in uno degli angoli più remoti dell'impero che era l'isola di Patmos a occidente della Turchia della moderna Turchia che allora si chiamava l'Asia e su Patmos lui scrive il più grande libro profetico di tutta la Bibbia l'apocalisse di San Giovanni e lui muore dopo che l'ha scritto lui muore tranquillamente sazio di giorni in vecchiaia gloria a Dio quindi come vedete fratello di una camminare per fede guardare al Signore questo che sto dicendo è per dirvi che dovremo fratelli e chi vuole capire capisca dobbiamo parlare in parabole che siamo usciti dall'epidemia delle siringate e stiamo entrando adesso in un'altra era che sfocerà alla fine nel marchio della bestia va bene quindi chi vuole seguire la nostra radio preghi per discernimento perché tante radio cristiane qua e là hanno dovuto chiudere per tanti motivi e questo adesso penso che è ancora più chiaro perché il Signore ci ha detto sulla sua scacchiera ha spostato ci ha spostati qui in Sud America dove la radio può funzionare con molta più tranquillità infatti in America non sono così anticristo non c'è questa pressione va bene anche le autorità qui sono molto amichevoli si può ragionare va bene va bene va bene sì gloria a Dio e allora fratelli cercate di capire le nostre queste nostre parabole Gesù parlava in parabole e sempre di più dovremo mentre aspettiamo la venuta della bestia sta per arrivare alla bestia che sale dal mare vuole leggere l'Apocalisse 13 1 poi vedi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste sulle corna dieci diademi e sulle teste nomi blasfemi Apocalisse 13 1 questa sì che è una parabola capito e ancora il mondo non capisce cosa vuol dire questo che rappresenta l'anticristo che sta arrivando sul mare il mare cos'è Apocalisse 17 17 17 cos'è 17,5 che dice il mare rappresenta 17,10 circa il 17 15 17,15 il mare cosa rappresenta il mare dimmi le acque che hai viste e sulle quali siedi la prostituta sono popoli moltitudini nazioni e lingue Apocalisse 17,15 ecco questa è l'interpretazione di Apocalisse 13,1 che ho letto allora il vedi salire dal mare una bestia con dieci corna e sette teste e sulle corna dieci diademi eccetera eccetera questo abbiamo spiegato nel corso biblico in dettaglissimo in dettaglio e vedi salire dal mare cosa vuol dire il mare sono popoli nazioni e lingue la bestia l'anticristo verrà dai popoli va bene una specie di una forma un po' democratica insomma i popoli lo eleggeranno come loro capo anche Paolo anche Paolo non poteva parlare sempre apertamente secondo Timoteo 2,7 Angela considera quel che dico perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa secondo Timoteo 2,7 questo è un messaggio che Paolo ha dato sulle finanze le decime eccetera anche quella è rappresentata in forma di parabola e poi gli dice a Timoteo considera quello che ti dico e il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa non siamo chiamati da Dio a difendere le cose del mondo sto parlando dei conflitti capito ma la nostra guerra è nello spirito per dare la verità del Vangelo salvare anime perdute ricordare un mondo perduto e corrotto che c'è un Dio c'è un salvatore c'è una verità c'è una salvezza e non solo il diavolo a Zizzani e le sue bugie che generano i conflitti dobbiamo dire al mondo perduto che nessun conflitto vale la vita di un solo figlio un solo padre in trincea a morire una mamma i civili che muoiono un bambino è meglio morire che sparare e uccidere così la penso io perché viene il giorno in cui dovremo renderne conto come Dio ci dice Angelina dammi il messaggio del trono bianco per favore Apocalisse 20 da 11 a 15 sì dammi uno stralcio poi vedi un grande trono bianco e vedi i morti grandi e piccoli in piedi davanti al trono i libri furono aperti e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco Apocalisse 20 da 11 a 15 viene il giorno in cui tutti dovremo renderne conto teniamo gli occhi su Gesù e togliamoli via dai grandi capi e dai loro media che mesmerizzano e ipnotizzano le masse proclamano cos'è che proclamano questi grandi capi armiamoci e voi partite armiamoci e voi morite tanto bravi sono a spiegarci i motivi per cui il mondo non potrà continuare se non andiamo a ammazzare i cattivi di turno ma i cattivi non mancheranno mai a cominciare da loro fino a che non ricevono Cristo e allora se questi signori vogliono andare a fare la guerra che vadano ma nessun imbroglione diciamo dà mai non dà mai l'esempio perché alla base sono solo decodardi come il loro Dio il diavolo che li guida sono finiti i tempi più onesti quando i capi guidavano di persona le battaglie era un pochettino più onesto i capi guidavano le battaglie ora sono invece solamente maestri a nascondersi dietro le bugie politiche a combattere i conflitti che loro programmano loro provocano e questo a tavolino mio padre aveva combattuto in due in due posti due volte combattuto una volta in Abissinia e un'altra volta in Libia le colonie che Mussolini voleva conquistare e lui sapeva cosa voleva dire essere sotto un bombardamento e vedere i bambini morire le persone morire lo sapevo le ha visto e piangeva quando ce lo raccontava e allora mi ricordo mi ricordo lui e si arrabbiava anche lui diceva a volte lui diceva adesso io me ne foto di gente come il Duce e di tutti se vogliono se vogliono fare i loro scontri io prendo i miei tre figli e me ne vado a rifugiarmi sulle montagne diceva mio padre grazie Signore lo diceva anche Gesù qualcosa di simile adesso mio papà mio amatissimo papà è con Gesù grazie Signore adesso non deve più preoccuparsi degli scontri li chiamiamo scontri va bene fratelli ci capite? vai Matteo 24 Angelina 16 allora quelli che saranno nella Giudea fugano ai monti Matteo 24 16 Luca 21 21 allora quelli che sono in Giudea fugano sui monti e quelli che sono in città se ne allontanino e quelli che sono nella campagna non entrino nella città Luca 21 21 Ebrei 11 7 per fede Noè divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora con Pio timore preparò un arca per la salvezza della sua famiglia con la sua fede condannò il mondo Ebrei 11 verso 7 non ascoltate falsi profeti che vi dicono non dovete prepararvi Noè preparò un arca Elia si rifugiò dalla vedova di Sarepta Gesù si nascondeva spesso non ascoltate falsi profeti che quando verranno a farvi del male questi falsi profeti saranno lì col marchio della bestia molti di loro mi aspetto che prenderanno il marchio gloria gloria signora allora siamo in chiusura io credo che questo suggerimento di mio papà rimane ottimo per chi ha famiglia chi avete delle persone nella famiglia incastrabili negli scontri speriamo di capirci Angela è chiaro così? devo chiarire di più? Sì si capisce e allora gli scontri che ci sono adesso e che verranno appunto ci sono adesso come in Ucraina va bene se avete in famiglia persone che possono incastrare in queste cose ascoltate il consiglio di mio papà lui dice prendimi tre figli e me ne vado e loro che se ne vadano al diavolo lui usava parolacce per dire la verità mi fermo qui Angelina sì e questo è un messaggio che volevo dare ai fratelli che posso cominciare è tempo di accelerare con la preghiera prepararsi e ciascuno vada alla sua montagna che potrebbe essere un luogo fuori dall'Europa un luogo fuori dalla nazione fuori dalla città sicuramente fuori dalla città va bene andare in campagna sulla montagna di qua chi può chi non può so che a volte mi scrivono tu parli bene tu fai facile io ho questo problema quel problema io non posso e se non puoi che non puoi il signore si prende cura di te in un modo o nell'altro ok il signore può anche prenderti con sé insomma io non sono Dio non posso dire a ciascuno va bene voi siete fratelli voi siete tanti come siete tanti in giro per il mondo va bene io do messaggi in generale poi ciascuno deve decifrare applicarlo alla sua situazione Dio benedica a me signore prego signore che te aiuti questi fratelli signore aiutili a capire quello che succede signore grazie signore nel nome di gesù cristo amén signore dai tutti quanti signore la fede di fare la tua volontà ascoltare la tua voce tu hai una risposta per chiunque alleluia angi c'è una canzone contro la guerra la mettiamo adesso si è pronta mettila una canzone contro la guerra a cosa serve la guerra diciamo la verità serve soltanto a vincere la guerra dell'inutilità la guerra non dice niente guardati intorno e ci arrivi perché la vincono sempre i buoni la perdono sempre i cattivi ogni soldato che parte ogni soldato del re vorrei vorrei raggiungerlo con questo valse fargli cantare con me a cosa serve la guerra diciamo la verità serve soltanto a vincerla dell'inutilità dell'inutilità la guerra è sempre la stessa ognuno ognuno la perderà e ogni soldato che muore si perde un po' di umanità la guerra è sempre la stessa devi partire e non sai se è una minaccia o se è una promessa che è l'ultima guerra che fai come uno stupido valse la storia non cambierà ma è sempre meglio cantarla ogni tanto questa canzone che fa a cosa serve la guerra e guardati intorno e ci arrivi perché la vincono sempre i vuoi la perdono sempre i cattivi la guerra è un caso irrisolto perché la sua soluzione è che il più debole ha sempre torto è il più forte ha sempre ragione a cosa serve la guerra diciamo la verità che serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità 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 Grazie.